Il Consiglio Comunale di Castellabate, tenuto l'8 gennaio scorso, ha discusso sul servizio idrico integrato attualmente in gestione alla CONSAC, gestioni idriche SPA. La seduta alla quale ha partecipato una folta rappresentanza della popolazione si è tenuta su richiesta della minoranza per discutere dell'annullamento della convenzione attualmente in essere tra l'ente e la CONSAC a causa delle tariffe applicate dalla società. Il Comune aveva un disavanzo di 1.200.000 euro ogni anno, è un servizio che costa 2 milioni e invece ricava 800.000 euro dalle bollette inviate nelle case dei cittadini, compriamo 1.900.000 metri cubi di acqua e ne vendiamo 750.000, acquistavamo l'acqua a 0,13 e la vendevamo a 0,12, quindi un servizio assolutamente negativo per il Comune di Castellabate. Proprio perché non abbiamo nessuna preclusione in questo Consiglio Comunale, c'era una proposta secondo me demagogica di dire annulliamo la convenzione, quindi eliminiamo CONSAC, benissimo. Quindi rimanere con la gestione del Comune. La gestione del Comune, che non è possibile per legge, ma il Comune non ha nemmeno struttura tecnica adeguata per poter fare un tipo di operazione, per fare questo tipo di conduzione come ha portato avanti negli anni. E allora oggi la proposta qual era? No CONSAC, benissimo, non si può fare per legge, ma poi la proposta, la soluzione invece qual è? Allora noi in questo Consiglio Comunale abbiamo detto una cosa diversa. C'è possibilità che un gestore diverso gestisca il ciclo delle acque a Castellabate, il servizio idrico indicato a Castellabate, magari applicando delle tariffe migliori? Benissimo, noi siamo i primi a volerlo percorrere. Atteso che, voglio ricordare, il soggetto che c'era è andato via perché non ha ritenuto conveniente gestire gli impianti di Castellabate. E allora noi dobbiamo seguire la strada maestra, fare una richiesta all'ente idrico campano, che qualora dovesse rivedere i bacini gestionali e assegnare il Comune di Castellabate al bacino gestito da Asis, ritornare in questa gestione sempre che Asis riveda la posizione espressa in conferenza di servizi, cioè sia disponibile a gestire gli impianti del Comune di Castellabate con quelle tariffe, perché quando Asis, che non è l'ultimo arrivato, ha fatto la proiezione, ha scoperto quello che noi sapevamo, non ci voleva molto a capire che quello che costa non viene pareggiato da quelle tariffe di Asis. Quelle di Consac invece pareggiano perché, insomma, sono più alte e pareggiano questi costi così alti, così eccessivi. Però il problema è anche di altra natura e credo che ci sia uno sforzo da parte di tutti di capire che si va in una direzione diversa. Quando, essendo riferimenti, modelli, si faceva così prima, noi non dobbiamo guardare quello che si faceva prima, perché se guardiamo quello che si faceva prima ritorniamo a quando per strada avevamo i cumuli. Negli anni 2000 noi avevamo i cumuli per strada, toglievamo i rifiuti con le pale meccaniche per liberare. Forse pagavamo in meno di tari, ma avevamo un paese sporco con i cumuli per strada. Oggi forse è aumentato il servizio, ma sono aumentate le unità, sono aumentate le persone che stanno lavorando. E abbiamo un paese che fa l'80% circa di raccolta differenziata. E allora credo che questo sia il modello al quale noi dobbiamo ambire e dobbiamo guardare. Vogliamo guardare l'illuminazione. E nell'illuminazione qualche anno fa la gestione prevedeva l'illuminazione alternata. Cioè i lampioni si spegnevano, uno sì, uno no, per risparmiare, per abbassare i consumi, per cercare di impattare e mettere qualche pezza di servizi che c'erano evidenti. Oggi siamo passati a una gestione completamente diversa. Stiamo rinnovando tutti gli impianti, quadri elettrici nuovi, impianti a LED. Quindi stiamo cambiando la tecnologia, la trasformazione. Stiamo rinnovando gli impianti. E allora bando ultralarga, metanizzazione. Il paese che cresce non può guardare quello che era il passato, quello che si faceva 30 anni fa. Poi, se vogliamo usare questi temi, usare queste cose per fare, diciamo, propaganda, facce di demagogia o sentire i paladini del popolo che oggi fanno le organizzazioni e le arringhe contro CONSAC, contro il comune perché sono aumentate le bollette, dico che non si sta facendo un servizio utile, dico che non si sta facendo qualcosa alla comunità, come non ha fatto niente il Consiglio Comunale. Invece bisogna dare informazioni corrette. Quindi oggi la situazione è questa. Non stiamo facendo nient'altro che rispettare un adempimento di leggi obbligatorie. Poi, fra l'altro, voglio ricordare un'altra cosa. CONSAC gestisce 52 comuni nel Parco Nazionale del Cilento, dove oggi i cittadini hanno un gestore, hanno un piano tariffario che è lo stesso che oggi è in essere anche a Castellabate. Per cui, questo grande clamore, questa grande differenza, mi rendo conto che oggi è legata al paragone, al confronto con quelle che erano le tariffe precedenti, con quella che era la gestione comunale. Ma è una cosa che sta, diciamo, è in vigore, è in regime in altri comuni dove pure il servizio funziona e dove pure le tariffe sono queste.